Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Maria Elena Boschi, ministra delle riforme, buonasera, benvenuto Valerio Onida, giurista, già presidente della Corte Costituzionale e schierato più che per il no al referendum costituzionale, vero? Perché più? Professor Onida, perché lei ha presentato anche ricorso e parleremo di tutto. Allora, vorrei però prima interpellare la ministra Boschi su quello che sta succedendo all'interno del vostro partito, del Partito Democratico, perché ieri alla Leopolda, che peraltro lei è stata una delle principali protagoniste, quando Renzi ha nominato la minoranza interna, Bersani e gli altri, c'è qualcuno che ha gridato fuori fuori, ma quanti erano quelli che hanno gridato fuori fuori? Beh, vedevo il TG qui della 7 prima di iniziare, uno alla fine si è scoperto, uno su 26.000 persone che sono state alla Leopolda in questi tre giorni ha gridato fuori fuori. Quindi era solo uno? Sì, tra l'altro è stato stoppato, come nello spirito della Leopolda vengono sempre stoppati quelli che magari provano a dare un dissenso così, perché lì siamo molto rispettosi di tutti. No, lei aveva stoppato il buco contro D'Alema il giorno prima, però... Sì, perché noi siamo sempre rispettosi tutti, ora riuscire a fare polemica anche sul fatto che uno su 26.000 che sono venuti alla Leopolda in modo molto rispettoso a parlare di politica, di proposte per il futuro, giovani mamme che hanno avuto un bambino che sono in attesa di un bambino che ci parlano dell'Italia che vorrebbero, interventi bellissimi di Recalcati, Ventivogli ed altri, concentrarsi su uno che ha detto fuori sinceramente mi pare un po' esagerato, ecco. Ma Bersani che invece se l'è presa un po' ha detto che risparmino il fiato perché tanto molti sono già fuori e ha detto che il partito è gestito con arroganza e sudditanza, quindi Bersani i suoi già fuori fuori, cosa replica? Ma no, ma sinceramente non è questo il punto. L'arroganza e sudditanza è un rimprovero che però vi viene fatto spesso, no? Bersani deve trovare un modo per spiegare ai nostri volontari, ai nostri iscritti, ai cittadini italiani in generale, come mai dopo tre volte che ha votato sì a questa riforma in Parlamento, dopo aver detto pubblicamente qualche mese fa, non 30 anni fa, che avrebbe votato sì al referendum, adesso ha cambiato idea e votano. Lui e D'Alema stanno cercando di fare, secondo noi, quello che sempre D'Alema e Bertinotti hanno fatto nel 98, secondo me sbagliando, facendo un danno al Partito Democratico, però detto questo, noi non mandiamo fuori nessuno i partiti dove mandano via le persone, sono altri, non è il Partito Democratico. Credo però che dobbiamo concentrarci da qui al 4 di dicembre per dare un contributo e spiegare cosa c'è dentro questa riforma, cosa si vota davvero il 4 di dicembre, che per fortuna non è un voto su Bersani o sulla minoranza del PD. Professore Onnida, lei come la vede questa lotta interna al PD, a parte chi la descrive come una guerra civile che forse è un po' eccessivo? Non sono iscritto al PD e non ho nessun titolo per intervenire nella dialettica interna del Partito, casomai io posso essere come cittadino preoccupato di qualcosa che sta nello statuto del PD, cioè il statuto del PD è congegnato in modo tale da arrivare a un'elezione, diciamo diretta, del segretario e vuole la coincidenza della carica di segretario del partito con la carica di presidenza del Consiglio. Se poi si guarda che nella legge elettorale, italicum attualmente in discussione ma comunque è in vigore, si dice che quando i partiti che si candidano a governare devono, quando il presidente della lista, indicare il nome e il cognome del capo della forza politica e un partito, quello che vince o al primo turno col 40% o al secondo turno col ballottaggio e conquista la maggioranza assoluta della Camera, sembra evidente che la carica di segretario del partito va a coincidere con la carica di Presidente del Consiglio perché a quel punto non potrà che essere questo capo ad essere nominato Presidente del Consiglio e poiché anche il segretario del partito ha anche molti poteri sulla formazione delle liste, quindi ecco c'è una forte personalizzazione, concentrazione che va, ripeto sono fatti istituzionali molto distinti, statuto del partito e leggi, però leggi elettorali... No, professore Nidale, le ho subito diritto di replica, voglio solo capire da professore se quindi lei conferma quello che ha già detto mi pare, che insomma o il Parlamento rappresenta il Paese o ci si avvicina a una dittatura, quindi pensa che con la reforma Boschi andiamo verso una dittatura, sono parole forti. Il paragone che faceva, la dittatura se si intende è un regime autocratico, non è alle porte nel caso della vittoria del Sirio e nel caso della vittoria del... no. Beh, meno male, già questa è una notizia perché con tutti i problemi che hanno altri paesi come la Turchia credo che arrivare a dire che il nostro paese rischia la dittatura mi parebbe un po' grave. Il paragone, probabilmente in questa citazione che non so da dove venisse, era con l'idea che essendo in una fase che spesso si dice di emergenza, faceva richiamare un po' quel che avveniva nell'antica Roma quando il Senato funzionava normalmente ma nei casi di emergenza nominavano due dittatori che ovviamente si sostituivano temporaneamente, era quindi la personalizzazione diciamo così del potere, a danno invece dell'assemblea. In questo senso indubbiamente anche la riforma va un po' nel senso della concentrazione del potere, ecco questo è il punto che a me fare si possa dire. Ecco, Ministra, perché a lei non piace né questo paragone? No, sinceramente no, nel senso che non c'è nessuna connessione con l'antica Roma se non appunto perché cambiamo il Senato, perché non c'è nessun rischio che ci siano sostituzioni di due persone, di una persona a un Parlamento legittimamente eletto, quindi trovo ovviamente sbagliato ogni tipo di paragone e ripeto, ci sono altri paesi che purtroppo vivono il dramma di derive autoritarie, non è il caso dell'Italia, quindi non credo che abolire il Cornell o abolire le province, so che il professore è contrario, l'abolizione delle province metta a repentaglio la democrazia nel nostro paese, se semplifichiamo un po' il paese. Mi piacerebbe però che queste preoccupazioni che ci sono sullo statuto del Partito Democratico, che io non condivido ovviamente, beh forse riguardassero altri partiti dove gli statuti non ci sono, dove non si sa chi decide le liste, in alcuni partiti, in alcuni salotti, in altri addirittura in stanze segrete, non si sa bene dove, vicino a quale stazione dell'autogrill o in quale città. Il Partito Democratico per fortuna ha uno statuto chiaro, comprensibile per tutti, le decisioni vengono prese negli organismi, quindi le liste non le decide il segretario, ma le approva la direzione nazionale, proprio perché abbiamo degli strumenti democratici, succede come in tanti altri paesi democratici, in tanti altri partiti, pensiamo al Regno Unito per esempio, che tutto è, tranne penso che una dittatura, in cui c'è una corrispondenza tra il segretario di un partito scelto direttamente dai cittadini italiani e io sinceramente Presidente non trovo preoccupante, come ha detto lei prima, che addirittura il segretario sia scelto direttamente dai cittadini, credo che sia un elemento di democrazia, peraltro è aperto a tutti, non solo agli iscritti del nostro partito, quindi il rischio sta nel Movimento 5 Stelle e in altri partiti, non certo nel PD e poi che ci possa essere una corrispondenza nella indicazione del nostro partito, cioè il nostro partito dice, noi proponiamo che se vince il nostro partito le elezioni, possa esserci da parte del nostro partito l'indicazione del segretario come Presidente del Consiglio, fermo restando che la riforma non cambia la Costituzione, fermo restando che siccome nemmeno la riforma cambia la Costituzione su questo punto, è il Presidente della Repubblica che indica il Presidente del Consiglio e il Parlamento vota o non vota la fiducia. Il fatto che nella legge elettorale si indichi il capo possibile del partito, diciamo il candidato, esiste già nella legge elettorale precedente, esisteva, non abbiamo introdotto un termine nuovo, c'era già anche in quella precedente. Solo che quello era il capo della coalizione, qua diventa il capo della forza politica, cioè del partito, e da solo conquista la maggioranza assoluta. E questa idea di capo che essendo capo del partito diventa anche capo del governo, le sa benissimo che nel passato questa questione della coincidenza della carica dal Segretario della DC e Presidente del Consiglio è stata molto discussa, ma indubbiamente nella storia dei nostri partiti la distinzione fra partito e governo è stata sempre sottolineata e non è un male, perché il partito è uno strumento della società per elaborare la politica e mediare tra società e istituzioni, mentre il governo è un'istituzione dello Stato, quindi questa confusione fra partito e governo è riscosa, anche se io so benissimo che il Partito Democratico non è un partito e non è un partito, ma adesso io non vorrei fare una trasmissione però su questo tema anche perché penso che appassioni non moltissimo la maggioranza della popolazione, però magari mi sbaglio, ma poi non si vota su questo il 4 dicembre. Appunto, quindi... Però c'è il fantasma dell'italicum. Il fantasma dell'italicum, adesso parliamo anche dell'italicum. Ma per fortuna sulla scheda il 4 dicembre non c'è la legge elettorale, né l'italicum né altre leggi elettorali. Allora, io vorrei chiedere al professor Onnida, a proposito invece della riforma sulla quale si voterà il 4 dicembre prossimo, siccome Renzi dice e anche la ministra Boschi che con questa riforma si riduce il numero dei politici italiani, è un modo come un altro per ridurre i costi della politica. Invece lei dice che questo è un falso problema. Perché? Sì, ministro Boschi, ve lo ricordo, credo fosse presente a un'antica riunione del PD in cui io partecipai prima che iniziasse la discussione sulle riforme, avevo osservato che mi sembrava improprio parlare di riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni nel titolo addirittura della legge. Ma qua intendiamoci, a me pare che questi siano gli argomenti populisti, questi della riduzione del numero dei parlamentari e della riduzione dei costi, perché quanto al numero dei parlamentari si può discutere ovviamente dell'opportunità che una Camera sia composta da 630 o da meno deputati, che un Senato sia composta da 315 o da meno senatori, però tagliare una sola Camera per ridurre il numero dei politici mi pare veramente improprio, perché noi non abbiamo bisogno di ridurre il numero dei politici, abbiamo casomai bisogno di aumentare la qualità, il livello di qualità dei politici, a tutti i livelli, io mi augurerei che di politici, cioè di persone che assumono funzioni politiche, funzioni di rappresentanza, anche sulle province, l'abolizione dei consigli provinciali. Aspetta, aspetta, stiamo sulla riduzione del numero dei politici, perché è un tema in dubbio. Noi diciamo il numero dei politici, speriamo di poter migliorare, ma purtroppo non è una riforma costituzionale che può migliorare il livello qualitativo dei politici, ma direi questo a dire che i politici sono degli augurpatori, insomma. I politici in democrazia sono coloro che vanno a svolgere un servizio, una funzione pubblica e per questa ragione li scelgono i cittadini, quindi questa riduzione finisce poi a ingenerare degli equivoci, a dire vadano tutti a casa, no, le mandiamo a casa a metà e ci basta. No, non è questo il problema, proprio non è questo. Allora, Ministro Boschi, è un cedimento all'antipolitica questo di dire dobbiamo tagliare le poltrone, che non è un bel modo di dire in effetti, non è molto rispettoso nei confronti della figura del politico che deve essere il rappresentante dei cittadini, che deve fare il proprio dovere a favore della società. Sinceramente io credo che non sia demagogia, sia mantenere un impegno e ai politici viene chiesto questo, mantenere gli impegni, se si promettono delle cose in campagna elettorale e poi si mantengono, questa è la serietà. E tutti i partiti politici, non solo il Partito Democratico, ha promesso la riduzione del numero dei parlamentari. La differenza è che noi questa promessa, questo impegno l'abbiamo mantenuto, perché il Parlamento ha votato una legge che riduce di 215 il numero dei senatori e di 315 le indennità parlamentari. Peraltro il Presidente Onida sa bene, perché faceva parte della Commissione dei Saggi di Letta e anche lui ha concordato su queste conclusioni, che anche la Commissione di Asperti voluta da Letta aveva proposto una riduzione significativa del numero dei parlamentari. Certo non possiamo dire che esimi costituzionalisti... E qui vi parla con le due Camere però. Sì, ma voi avete proposto la riduzione del numero dei parlamentari, un Senato rappresentativo dei territori, anzi lei addirittura con sindaci e consiglieri regionali che dovevano far parte di quel Senato, solo che la differenza è che noi l'abbiamo proposto in Parlamento, votato in Parlamento democraticamente con sei voti. Voi ovviamente lo avete fatto nell'hotel dove vi siete riuniti, avete concluso con questo documento che noi abbiamo preso seriamente in considerazione, ne abbiamo fatto tesoro, ma come abbiamo fatto tesoro anche di quello che lei aveva proposto nelle tesi dell'Ulivo già alla metà degli anni 90, dove si parlava di superamento del bicameralismo paritario, di Senato delle Regioni, di riduzione del numero dei parlamentari, non ce lo siamo inventati noi oggi. Il professore Onida e le tesi dell'Ulivo, il PDS prima, ma le proposte di D'Alema, di Violante, la riduzione del numero dei parlamentari l'hanno sempre proposta, solo che noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo mantenuto. È solo questo il punto della riforma? No, perché l'efficienza dell'Italia passa dal superamento del bicameralismo paritario, dal nuovo titolo quinto, dall'abolizione della provincia. È ovvio che non è solo questo. Ministro, aspetti un attimo perché vedo che il professor Onida si è messo alla ricerca di alcune carte. La riduzione del numero voluta in questo modo, cioè dobbiamo ridurre, quindi come riduciamo? Non importa, 630 deputati restano 630, 315 senatori diventano 100. La riduzione del numero in un'altra prospettiva era, ripensiamo un'assemblea rappresentativa di quanti dovrebbe essere composta per essere contemporaneamente rappresentativa ed efficiente. No, ma io rispondevo perché lei ha detto che non va ridotto il numero dei parlamentari ora perché altrimenti si riduce la democrazia, quindi aumentiamo il numero dei parlamentari, facciamo un emendamento per aumentare. Non ho detto che non va ridotto il numero dei parlamentari, ho detto che è un argomento demagogico quello di tagliare comunque, in questo caso ridurre a un terzo il numero dei senatori e lasciare intatto il numero dei deputati, che tra l'altro provoca squilibri fra le due camere, solo per rispondere a questa ansia di ridurre il numero. Il numero dei parlamentari si determina in base ad altri criteri. E poi se il problema è quello dei cosiddetti costi, cioè dell'indenità, osserverei che questo non è un tema costituzionale, perché la Costituzione dice solo che c'è un'indenità, non dice quanto debba essere, quindi quello è un tema da affrontare in sede di legge sulle indenità parlamentari. No, Presidente, siamo tutti d'accordo che il numero dei parlamentari è scritto in Costituzione, quindi per cambiare il numero dei parlamentari o si cambia la Costituzione oppure non si può fare con una legge ordinaria. Allora, noi abbiamo due temi, a mio avviso. Da un lato il contenimento dei costi e quindi riduciamo il numero dei parlamentari e si riducono i costi, che però si riducono molto di più perché insieme riduciamo gli stipendi dei consiglieri regionali che non potranno più essere pagati più di al sindaco della città, capoluogo di regione, aboliamo le province, aboliamo i 20 milioni all'anno del CNEL, rivediamo il titolo quinto e quindi sono molto più ampi i risparmi. Ma il punto non è che, scusi Presidente, se concludo rispondendo alla sua obiezione sul perché abbiamo ridotto solo al Senato il numero dei componenti, proprio perché non è casuale la riduzione del numero dei parlamentari, ma serve ad avere una maggior efficienza, non solo un risparmio dei costi. Allora, avere un Senato che cambia fisionomia perché rappresenterà le istituzioni territoriali, sindaci e consiglieri regionali, come nella sua proposta, come nella proposta degli esperti di letta, più una Camera dei deputati che continua ad avere una funzione di indirizzo politico e quindi rimane a 630 deputati proprio per garantire questa democrazia, una rappresentanza molto ampia dei cittadini, proprio come diceva il Presidente, è coerente. Ovviamente un Senato che ha meno funzioni, meno poteri, richiede anche meno componenti. Ecco perché passiamo a 100. Replica rapida del Professore? No, non è vero intanto che meno funzioni e meno componenti è un'equazione che non è accettabile, non ha significato, ma comunque voglio dire che il problema dei costi non c'entra con la Costituzione. Anzi, mi trovo del tutto improprio che si siano inserite nella Costituzione e nella legge costituzionale regole sull'indennità dei consiglieri regionali e regole sui trasferimenti finanziari ai gruppi consigliari regionali perché mi sembrano norme volute solo per punire le regioni, mentre questi non sono argomenti costituzionali. C'è la legge sulle indennità, c'è una legge sulle indennità, si faccia la legge e si faccia anche sulle indennità parlamentari. Invece la legge c'è, quella non viene toccata, ma voglio dire che questo non è argomento costituzionale, non c'è ragione per inserire nella Costituzione queste cose. Però Presidente, sulle indennità parlamentari il 4 di dicembre non si vota. I cittadini il 4 di dicembre devono decidere se ridurre il numero dei parlamentari e conseguentemente ridurre i costi di funzionamento complessivamente di 500 milioni all'anno e destinare quelle risorse ad altre finalità per i cittadini o meno. Questa è la discussione del 4 di dicembre. Io credo che mantenere l'impegno preso con i cittadini sia un atto di serietà e io credo che si possa fare buona politica anche con qualche politico in meno perché non è vera nemmeno l'equazione che più politici vuol dire politica migliore perché altrimenti il Senato degli Stati Uniti che ha 100 senatori non è un buon Senato eppure sono molti di più gli abitanti degli Stati Uniti, è molto più basso quel territorio e non vuol dire che non ci sia democrazia negli Stati Uniti se hanno 100 senatori in quel Senato. La migliore politica è un problema di qualità, non è un problema di quantità. Però certo dire che bisogna ridurre perché così si ha un sistema migliore non è vero. Non è vero semplicemente. Il nuovo titolo quinto che contribuisce ad avere un sistema migliore è l'insieme della riforma. Tant'è vero che questa riforma ha tutti questi elementi insieme. Allora parliamo d'altro. Allora adesso però parliamo più per niente perché io devo andare in pubblicità ma restate con noi perché torniamo tra pochi minuti e ci occuperemo anche del fatto che quelli del PD, voi che siete al governo state diventando antipatici come dice qualcuno che è anti-Renziano non è e questo è un problema in politica e questo referendum del 4 dicembre rischia di slittare per colpa tra virgolette del professor Onida che ha presentato un ricorso al Tribunale Cilindrano. Ministra Boschi, il sondaggio che è stato messo in onda durante il Tg di Mentana dice che il no è in vantaggio di 3 punti e mezzo sul sì al referendum. Cioè come potete pensare di rimontare la china? Tutti i sondaggi danno perdente il sì. Questo penso porti fortuna perché quando abbiamo avuto il nostro miglior risultato all'europea del 2014 tutti davano primo partito, Movimento 5 Stelle e il PD in crisi. Ma anche allora i sondaggi dicevano grande sorpasso del Movimento 5 Stelle, PD spacciato e abbiamo preso il 41% e abbiamo avuto il risultato migliore degli ultimi 50 anni. I sondaggi purtroppo, lo dico col massimo rispetto, ma nell'ultimo periodo non sempre hanno indovinato, non soltanto in Italia ma anche all'estero. E quindi lei pensa che il sì vincerà? No, io credo che il sì vincerà e ovviamente noi siamo più che contenti di affrontare le ultime settimane di campagna elettorale e di dimostrare che vinceremo nonostante il pronostico contrario dei sondaggisti. Lei invece sarà contento, professore Onida, probabilmente aspetta con ansia la sentenza del Tribunale Civile di Milano perché lei ha fatto ricorso contro la formulazione del quesito referendario, ha chiesto il cosiddetto spacchettamento, che ci siano per ogni questione un singolo quesito, una singola scheda. Ma è possibile che la sentenza sul suo ricorso arrivi in tempo utile per far eslittare il referendum? No, guardi, spiego più chiaramente in cosa consiste il problema che abbiamo sollevato noi davanti ai giudici. Secondo noi c'è una disomogeneità nel quesito, perché c'è una disomogeneità nella legge che viene proposta ad un quesito solo. La Corte Costituzionale nel 1978 a proposito del referendum abrogativo disse che il referendum è un istituto di democrazia diretta e che però per essere tale deve proporre all'elettore un quesito chiaro, puntuale, preciso, al cui si possa rispondere con un sì o con un no e che invece ammassare in un medesimo referendum argomenti diversi lede la libertà di voto dell'elettore. Ecco, ma ammettiamo che il Tribunale Civile di Milano le dia ragione con questo suo ricorso. Chiarisco, quello che noi chiediamo con questo ricorso è che si mandi alla Corte Costituzionale la questione sulla legittimità costituzionale della legge sul referendum, perché essa non prevede questa ipotesi particolare di una legge, non la prevede perché probabilmente dava per scontato... Ecco, se la questione fosse rinviata alla Corte Costituzionale che conseguenze ci sarebbero? Beh, la Corte Costituzionale dovrebbe pronunciarsi sul merito della legge. Naturalmente qua c'è il problema dei tempi che succedono nel frattempo e qua la Corte Costituzionale ha dei poteri di sospensione che potrebbe probabilmente esercitare, però non mi esercito, adesso non astrologherei su quello che potrebbe avvenire. No, ma è per capire e spiegare... Il problema che abbiamo posto noi è quello, un quesito eterogeno trasforma il referendum... Sì, 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 ma vogliamo capire lo scenario, professore, aspetti che interpello anche la Ministra Boschi perché a questo punto non vi conveniva fare più quesiti e se la questione poi finisce la Corte Costituzionale cosa succede? Che conseguenze ci sarebbero per il governo, per il referendum? Dovrebbe slittare a quel punto? Beh, questo ovviamente non posso stabilirlo io, dipenderà da quello che decideranno i giudici o la Corte Costituzionale. Sappiamo che però dalla prossima settimana gli italiani all'estero cominciano a ricevere i plichi per poter votare, quindi dalla prossima settimana all'estero si vota, però io non è che sia contraria in termini politici o di sostanza alla divisione dei quesiti, credo in totale onestà che non si possa fare a livello giuridico perché in realtà la legge sul referendum rispetto alla revisione costituzionale e come in questo caso alle leggi costituzionali mixate prevedono che i cittadini votino sulla stessa cosa su cui ha votato il Parlamento, che è un'unica legge e quindi un unico quesito. Peraltro nel 2006 il Presidente Unida la pensava nello stesso modo perché nel referendum di allora, cheppure lo vedeva contrario alla proposta comprensibilmente di riforma del governo Berlusconi, non propose lo spacchettamento dicendo che non si poteva fare anche secondo lui in attesa di una modifica normativa. Voi mi fate sempre dire delle cose che non ho detto. No, 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 ma in attesa di una modifica normativa, tant'è vero che lei chiede alla Corte di dire che la legge manca di quella parte lì, proprio perché con la legge attuale non si può fare, perché con la legge attuale secondo me non si può spacchettare. Perché qui è in gioco un diritto fondamentale dei cittadini, un diritto fondamentale. No, io credo che il quesito sia molto chiaro. Però deciderà la Corte davvero. Deciderà la Corte, poi decideranno i cittadini che andranno a votare. Io adesso invece decido di farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro perché abbiamo detto che alla Leopolda è stato sollevato anche il tema della simpatia-antipatia. Stanno diventando un po' antipatici. Cosa c'entra con la riforma? Eh, adesso vedrà, vedrà. Guardi il punto di Paolo Pagliaro. Non c'entra con la riforma la simpatia e l'antipatia. La simpatia è un elemento che concorre alla formazione della leadership ed è un valore che fa sempre bene alla salute e anche in politica. Questo diceva Fausto Bertinotti nel 2005 occupandosi di Berlusconi. Il rapporto tra simpatia e politica è stato sempre molto stretto, come hanno spiegato illustri pensatori di ogni epoca. Ma mentre nessuno si aspettava che De Gasperi o Togliatti fossero anche simpatici, da Berlusconi in poi, ha scritto un cronista attento come Filippo Ceccarelli, il fattore S è diventato decisivo anche nella politica italiana. E la simpatia, arbitrario moto dell'anima, molla complessa, ambigua percezione, è andata al potere, inesorabilmente perdendo un po' della sua autenticità. Berlusconi teorizzava che l'importante fosse creare il clima giusto, farsi concavo o convesso, a seconda dell'interlocutore e in ogni caso restare simpatici. Nelle istruzioni ai candidati alle amministrative marzo 2002 si poteva leggere la seguente esortazione. Dovete chiamare la gente per nome, che per ciascuno è la musica più bella da sentire, e fare sempre dei complimenti. Che bella cravatta, caro amico, che bel sorriso, signore. Naturalmente la simpatia non è una tecnica, ma un dono del signore. Chi non ce l'ha, non se la può dare. E chi ce l'ha rischia di perderla, come ha ricordato ieri Oscar Farinetti, prima alla Leopolda e poi al Corriere della Sera. Noi renziani stiamo diventando antipatici, ha detto l'imprenditore amico del Premier. E Renzi, ha aggiunto, sta cadendo nella sindrome del primo della classe. A volte risulta antipatico anche quando dice cose vere. Sia più se stesso, riveli di non avere poi tutte queste certezze e di essere anche lui pieno di dubbi. La gente apprezzerà. Il tema è posto. Allora, Ministra Boschi, anche lei pensa che Renzi stia diventando antipatico e non teme che la cosa possa riguardare anche lei? Ma ovviamente non è che io possa giudicare se sono simpatico o antipatico. a questo lo lascio giudicare agli altri, ovviamente. Io credo che Renzi sia simpatico e resti simpatico, ma il punto non è questo. Alla Leopolda, come abbiamo visto, tutti possono dire liberamente come è giusto che sia la propria opinione e quindi noi accettiamo anche le critiche, magari i suggerimenti che arrivano da chi parla all'Aleopolda come da chiunque. Renzi, mi scusi, ieri ha detto che lui è troppo impulsivo, anche un po' arrogante e quindi potrebbe anche essere un po' antipatico. È così, Renzi? No, io non credo sinceramente che sia arrogante o che sia antipatico. Io credo che sia una persona decisa. Magari alcune volte può, se lui si vede così, ovviamente non è che possa cambiare il suo modo di vedersi, però il punto vero è che noi, essendo al governo, abbiamo anche la responsabilità di scelte che non sempre sono magari popolari per tutti, perché dobbiamo avere anche il coraggio di scontentare qualcuno quando si affrontano riforme impegnative. Chi tiene sempre tutti d'accordo e chi sostanzialmente non fa nulla. Noi abbiamo scelto una strada diversa, quella di cambiare il paese, rimanendo gli stessi che eravamo prima però. Noi non siamo cambiati. Sono 36 mesi che cerchiamo di cambiare questo paese. Poi per fortuna ha ragione il Presidente Unida. Il 4 dicembre non si vota sulla simpatia o l'antipatia a questo governo, a Renzi, a me. Si vota sul futuro dell'Italia, sui prossimi 30 anni del paese e sulla scheda non trovate, tranquilli, la mia foto, la foto di Renzi, il simbolo del partito. Ecco, è una domanda chiara su come vogliamo cambiare la Costituzione. Però, professore Unida, le do subito la parola. Scommetto che non le so tanto simpatica, Presidente. Come? Non le so tanto simpatica, però non lo dica nel caso. Chi l'ha detto? No, sto scherzando. Le sono simpatici i renziani, professore Unida. Anche se le devo ricordare che anche lei è stata forse un po' vittima della rotamazione di Renzi. Perché come ricordava prima la Ministra Boschi nel 2014, quando Renzi arrivò a Palazzo Chigi, sciolse la commissione di cui anche lei faceva parte. No, avevano già finito il loro lavoro. No, pensavo che... Però Renzi ha detto che la vostra commissione è stata un fallimento. Allora pensavo che magari il suo no al referendum fosse un po' anche un no di antipatia. Ma no, ma no, ma no. Posso dire, su questo tema, la cosa sostanziale è questa. Dai politici, io, noi, tanti, ci aspetteremo non più simpatia, ma migliore politica. Allora, cos'è la migliore politica? Giustamente il Ministro Boschi adesso diceva Noi, tante volte dobbiamo fare delle cose impopolari. Ma a me pare che invece, molte volte, oggi, quasi tutti o tutti, tendano a fare politica cercando sempre di accattivarsi la simpatia, appunto. Dice, guadagniamo perché diamo questo, diamo dei benefici. Non si può mai parlare del fatto che, per esempio, si dovrebbero, in ipotesi, aumentare le imposte, per esempio per far fronte alle spese della protezione dal rischio sismico del territorio. Perché aumentare le imposte è una cosa impopolare, non si può fare. Si deve sempre accattivarsi gli elettori, accarezzarli per il verso del pelo. Questo, non faccio una critica specifica a Renzi, faccio una critica alla politica così come oggi viene condotta. Un attimo, professor Onida, la posso interrompere secondo? Perché è arrivata adesso la notizia che l'agenzia di rating Moody's dice che le riforme in Italia dipendono dal referendum. Ma perché ci ascoltiamo anche l'agenzia di rating Moody's che non c'entra niente con la Costituzione italiana e che si occupa di dare un rating ai debitori? Cosa ci interessa di quel che dice la Moody's o quel che dice JP Morgan o quant'altro? Si potrebbe dire perché il mondo ci guarda che ci piaccia o no. Io ho dato semplicemente una notizia. Non siano l'agenzia di rating e la JP Morgan. Spero proprio che il mondo non sia dato dai mercati internazionali. Il mondo è un'altra cosa. Il mondo sono le persone, uomini e donne e bambini, anche quelli che magari ci danno fastidio quando si fanno vedere. Quindi diciamo veramente bisognerebbe... Anche questo fa parte della politica di oggi. Io devo constatare che purtroppo negli ultimi 20-30 anni abbiamo avuto un abbassamento da questo punto di vista. I politici hanno cercato di essere simpatici e di accattivarsi le simpatie degli elettori invece che qualche volta dire ai cittadini come stanno davvero le cose e dire che se c'è una situazione è difficile. È difficile. E forse si deve anche dire ai cittadini che si devono impegnare, che devono sostenere le loro responsabilità, che devono fare la loro parte. Se posso però, Presidente, siamo d'accordo che noi le riforme le facciamo perché servono ai cittadini italiani e perché servono a far funzionare meglio il nostro Paese. Quindi noi abbiamo come obiettivo rendere la vita più semplice, limitare la burocrazia, avere un Paese più giusto per i cittadini italiani. Su questo siamo d'accordo e anzi, a noi piace che si sentano coinvolti, che partecipino non soltanto nella campagna referendaria. Altrimenti non avremo previsto, come invece abbiamo previsto nella riforma, nuovi strumenti di partecipazione diretta dei cittadini, abbassando il quorum per i referendum abrogativi, introducendo i referendum di indirizzo. Scusi, Presidente, se posso finire un secondo? L'ho ascoltata. Il referendum di indirizzo, altre forme di consultazione, l'obbligo per il Parlamento di esaminare le proposte di legge di iniziativa popolare. Quindi siamo d'accordo con la partecipazione dei cittadini sempre. Non ci sono cittadini che ci danno fastidio, mai. Noi rispettiamo sempre le scelte dei cittadini, purché siano espresse in modo rispettoso, come stiamo facendo stasera, democratico, non certo le scene che abbiamo visto fuori dalla Leopolda a Firenza. A noi piace la gente che discute con idee diverse, ma in modo rispettoso sempre senza andare ad attaccare con violenza, con minacce le forze dell'ordine e altri cittadini. Su una cosa però importante. Ora, questo governo può avere tanti difetti, ce li ha, tanti limiti, per carità. Però dire che abbiamo fatto solo misure che in qualche modo fossero popolari è un po' ingiusto. Quanto meno per dare conto alla Camus e alla CGL di tutti gli scioperi che ci ha fatto e tutte le proteste. Diamo atto anche a chi ha contrastato le politiche del governo. Certo non sono fatte per il consenso di tutti. Credo però che non aumentare le tasse, soprattutto non aumentare le tasse per prestare soccorso alle popolazioni colpite dai terremoti, che invece stiamo aiutando concretamente con miliardi di euro messi in legge di bilancio, sia una scelta di politica economica. Noi preferiamo avere un po' più di risorse altrove da spendere per i nostri cittadini che aumentare le tasse. Questa è una scelta che io rivendico, sì, e non è per simpatia, è per rispetto ai nostri cittadini. Siamo in chiusura. Ministra Boschi, voglio... Ma io non ho detto, non ho parlato di aumentare le tasse per soccorrere i terremotati. Ho detto che per certe operazioni, come la messa in sicurezza del territorio, la prevenzione, le risorse che servono sono talmente tante che immaginare di poterlo fare senza fare un appello, non l'appello al contributo volontario da mandare al... No, no, noi non stiamo facendo nessun appello. Quello lo fanno i cittadini con la loro generosità ed è una cosa bella, ma non lo fa il governo. Ma fare anche ai possibili sacrifici. E lo facevo come esempio per dire che oggi la politica non parla mai di sacrifici, non parla mai di doveri. tende a parlare di benefici, di impossibilità, di più diritti. Sì, ci piace... Presidente, ci piace raccontare che insieme ce la possiamo fare. Sì, ci piace dare speranza ai cittadini. Dire che insieme, con serietà, facendo anche fatica, ma che insieme le cose possono migliorare, perché altrimenti non ha senso impegnarsi non solo in politica, ma in ciascuna professione che ciascuno di noi fa. Ma la serietà implica anche questo. Che sarebbe molto più bello, credo onestamente, non solo da ministra, momentaneamente rappresentante delle istituzioni, ma da cittadina, molto più bello che anche lei con noi sentisse di dover affrontare una battaglia in Europa in cui chiediamo che venga riconosciuto l'impegno del nostro paese per la messa in sicurezza di fronte non solo alle ultime tragedie, ma a quelle che vorremmo non succedessero mai più. La possibilità di mettere in sicurezza le nostre scuole, la possibilità di dare soccorso agli immigrati, venisse sentita come una battaglia comune e non come un'esigenza di alzare le tasse per far solta a questi problemi. Non capisco perché si deve chiedere agli altri, prima che a noi. Il punto è questo. Qual è il messaggio che la politica dà ai cittadini? Se i problemi sono comuni, a tutti i cittadini non è un problema di partecipazione. Non ho parlato della partecipazione. Ho detto che da 20-30 anni dalla politica non sentiamo discorsi realmente seri, cioè che anche inducano alla corresponsabilità, ma la tendenza ha appunto a carezzare per il verso del pelo. E magari a correre dietro le paure. Devo chiudere, il concetto è chiaro, ma ho ancora un'ultima domanda a Ministra Boschi, e vorrei tornare alla Leopolda perché quest'anno è tornato da protagonista Matteo Richetti ed è arrivata anche Agnese Landini, la moglie di Renzi. Il giglio magico si sta rinnovando e pensa che sia una buona idea quella che Renzi si faccia vedere molto più spesso con la moglie? Io pensavo ci facesse l'accusa opposta, cioè che siamo sempre i soliti perché sia Agnese che Matteo Richetti sono con noi sempre fortunatamente dal primo anno e alla Leopolda e non soltanto alla Leopolda per fortuna. Solo che mi fa un po' ridere questa cosa che prima ci sono giornali su giornali per dire che il giglio magico è chiuso, siamo sempre i soliti. Poi quando diciamo allarghiamo, coinvolgiamo nuove persone perché ogni persona in più per noi è una risorsa, una ricchezza, una cosa bella. Veniamo criticati perché invece il giglio magico si allarga. Poi litighiamo dentro al giglio magico, poi non litighiamo dentro al giglio magico. La cosa bella è che siamo sempre gli stessi, con i nostri limiti ma ce la mettiamo veramente tutta, tutti insieme, con il sorriso, con l'entusiasmo, con l'energia delle 26 mila persone della Leopolda e non solo, dei milioni di cittadini italiani per rendere il nostro paese più bello perché funziona meglio. Ma il fatto che Renzi, ultimamente si faccia vedere sempre con la moglie Agnese, fa parte di una strategia di operazione simpatia? Ma che operazione simpatia! È normale che siano insieme nelle occasioni, ovviamente che riguardano la loro vita privata, per carità, ma anche nelle occasioni ufficiali in cui la moglie del Presidente del Consiglio, come è sempre successo, accompagna il Presidente del Consiglio nelle visite ufficiali e in momenti come la Leopolda che non sono ufficiali ma che sono belli di condivisione, di partecipazione, di voglia di stare insieme ed è bello che lei, come c'è sempre stata, continua a dare una mano per la nostra campagna. Quindi i sorrisi tra di voi erano sorrisi sinceri, visto che sono state scattate centomila foto tra lei e Agnese. Ma ora, sinceramente, non so perché ci sono state scattate tutte queste foto, perché è abbastanza normale, fa parte della quotidianità. Diciamo che per fortuna siamo venute bene in foto, mettiamola così. Siete due bellissime ragazze. Posso esprimere la mia solidarietà al Ministro Boschi per questo tipo di argomenti che vengono portati in generale contro i politici? Contro o a favore? Soprattutto perché c'è un elemento molto positivo, io spero che da domani sera ci dovremo chiedere, io mi auguro, se negli Stati Uniti Bill Clinton accompagnerà o non accompagnerà Hillary Clinton, che credo sia un elemento di modernità e che ci lascia tutti bene a sperare per il futuro. Ma questo è un po' colpa dei mezzi di comunicazione, puntare su questi aspetti. Lei lo sa, professore, che c'è sempre un accanimento particolare nei confronti delle donne. E anche questo. È ormai appurato. Devo chiudere, voglio però ricordare il suo libricino, Perché è saggio dire no, è edito da Rubettino, Valerio Unida con Gaetano Quagliariello. E poi vorrei ricordare anche perché sì, che è edito da La Terza e che ha una prefazione della Ministra Boschi. Che spero il Presidente Unida legga perché ho letto il libro del Presidente Unida, quindi per far condicio spero e mi auguro che legga perché sì anche il Presidente Unida. Leggo tutto quello che si scrive in argomento. Io ho letto il libro. Grazie, grazie professore Unida, grazie Ministra Boschi.